Buonasera, questo è l'ultimo appuntamento di questa settimana con la nostra informazione, da domani ci sarà una rivisitazione degli argomenti maggiori che hanno caratterizzato la settimana. E allora di cosa parliamo? Parliamo della terra dei fuochi, di questa terra martoriata, di questa terra dissacrata da coloro i quali senza scrupoli hanno permesso che nei nostri territori venisse sversato di tutto, di tutto da qualunque parte d'Italia. E allora vi è stata una legge da parte del Parlamento per tutelare le popolazioni, ma noi non possiamo dimenticare i giovani, i ragazzi che ci hanno rimesso la vita, le persone che sono morte di malattie contratte proprio a causa della cosiddetta terra dei fuochi, dell'inquinamento. Bisogna partire subito con una politica di bonifica delle aree, bisogna dare immediatamente risposte alle popolazioni locali. Ricordiamo quello che sta facendo Don Patriciello Accaivano con la sua azione quotidiana senza sosta per tutelare le fasce meno protette della popolazione locale. Noi dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo denunziare, mettere in evidenza, ridare una coscienza civica alla nostra città, alla nostra collettività, ai nostri amici che si trovano ad affrontare un'emergenza così importante. Dobbiamo dimostrare di avere le carte in regola per essere una popolazione che si pone il problema del futuro dei propri figli, che si pone il problema del futuro della propria collettività, che si pone il problema del futuro di essere un popolo degno di appartenere a questa comunità. E lo stiamo facendo quotidianamente attraverso gli organi di informazione che ormai denunziano a tutto spiano quanto si sta verificando e soprattutto lo dobbiamo a quelle persone che si stanno impegnando quotidianamente per determinare un cambiamento nelle collettività locali. Grazie a Don Patriciello per il suo impegno e soprattutto facciamo in modo che egli non si senta mai solo. Grazie, buonasera e passiamo alle altre notizie nel nostro videogiornale. Grazie a tutti. Primi problemi alla Camera per l'iter della nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Il voto finale slitta la settimana prossima. Nel frattempo è stato bocciato l'emendamento di Pino Pisicchio del gruppo misto che prevedeva fino a due preferenze, una per un candidato maschio e l'altra per un candidato femmina, così da mantenere le quote rosa. In risposta alla bocciatura dell'emendamento Pisicchio, 90 parlamentari donne di tutti gli schieramenti hanno firmato un appello affinché venga introdotta una qualche parità di genere nella legge. Intanto continua il botta e risposta tra Grillo e il Quirinale. Il leader del Movimento 5 Stelle è intervenuto più volte nel dibattito sull'Italicum chiedendo a Napolitano di esercitare i suoi poteri per eliminare alcuni presunti aspetti di incostituzionalità che la nuova legge elettorale prevederebbe. Decisa e formale, come sempre, la risposta del Colle è fuorviante, fa sapere il Quirinale chiedere al Presidente della Repubblica di intervenire su una legge ancora in discussione. Insomma, fanno capire dal Colle, sarebbe un intervento a gambatisa. Inoltre non necessario, visto che la legge è ancora in discussione e tanti aspetti potrebbero anche cambiare. Il senso è chiaro, lasciamo lavorare le camere e poi verifichiamo se ci saranno o meno aspetti di incostituzionalità. I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli nel proseguo dell'attività di contrasto al contrabbando di sigarette avviata con la recente operazione Black Smoke hanno conseguito un altro importante risultato. Nei giorni scorsi, infatti, è stato effettuato il sequestro di quasi tre tonnellate e mezzo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, rinvenuti nella disponibilità di sei soggetti di cui cinque di nazionalità stranera, tre ucraine e due ungheresi e un italiano già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi di contrabbandiere. Le sigarette sequestrate prodotte in Italia ma provenienti dall'Ucraina dopo un giro finalizzato ad aggirare il regime di monopolio vigente nel nostro paese erano trasportate a bordo di due furgoni uno dei quali era stato rubato in Toscana i quali sono stati intercettati e seguiti durante un protatto e impegnativo servizio di osservazione e pedinamento sul tratto autostradale campano dell'A1. Le bionde viaggiavano senza alcun carico di copertura scortate da una staffetta automontata a bordo di un potente sub anch'esso fermato. La merce doveva rifornire il fiorente mercato di sigarette di contrabbando nei quartieri rionali della città di Napoli. L'intervento repressivo è scattato all'interno di un'area comunale adibita a parcheggio pubblico a fuori grotta dove tutti gli automezzi impiegati nel traffico illecito avevano trovato riparo durante la fase di trasbordo delle sigarette di contrabbando. Al termine dell'operazione sono stati tratti in arresto e in flagranza di reato i sei soggetti coinvolti nell'attività e oltre ai tabacchi di contrabbando sono stati sottoposti a sequestro i due furgoni addibiti a trasporto del carico illecito. Il valore del prodotto sequestrato è stato stimato in oltre 660 mila euro e ad oltre 590 mila euro ammontano i tributi doganali e vasi. Gli incidenti stradali con le loro drammatiche conseguenze e l'elevato impatto sul piano dei costi sociali rappresentano un dramma di grave attualità. In Italia ogni giorno perdono la vita 10 persone e 725 restano ferite più o meno gravemente a causa dei sinistri che si verificano sull'intera rete viaria nazionale. Più di inquinto dei morti ed oltre il 35% degli infortunati ha meno di 30 anni. E per fronteggiare la ploriferazione di condotte di guida particolarmente nefaste per la sicurezza stradale sta diffondendosi nel nostro paese l'ipotesi dell'introduzione di una nuova figura di reato l'omicidio stradale intorno al quale si è acceso un forte e interessante dibattito. E sull'argomento si sono confrontati presso la sede del TAR Campania nell'ambito del convegno ipotesi di una nuova figura di reato l'omicidio stradale realizzato dall'Automobile Club di Napoli in collaborazione con la sua commissione giuridica i massimi esperti di diritto al fine di affrontare e analizzare i controversi aspetti che rendono di non facile attuazione l'introduzione di questa nuova fattispecie di reato. Sentiamo Antonio Coppola presidente dell'Automobile Club Napoli e il presidente del TAR della Campania Cesare Mastrocola Noi vogliamo che ci sia una pena effettiva ed effettivamente scontata da tutti questi conducenti che per loro imperizia per velocità, per distrazione con l'uso del telefonino eccetera commettono una serie di reati sulla strada. Ci sono dei problemi di carattere tecnico perché per inasprire non si può inasprire se si ritiene che l'omicidio sia colposo come normalmente è il massimo è previsto dal codice arrivare a qualificarlo come doroso diventa difficilissimo. A sentire il comune di Napoli il capoluogo campano starebbe vivendo un vero e proprio periodo di boom turistico non la pensano così però proprio gli albergatori che in una lettera dai toni duri accusano l'amministrazione partenopea di non ascoltare le loro ragioni pur ammettendo comunque una ripresa rispetto al passato i punti di criticità individuati da federalberghi che con l'Unione Industriale ha firmato la missiva sono molti è il comune forecchie da mercante ne elenca alcuni i più gravi ai nostri microfoni il vicepresidente federalberghi Napoli Antonio Izzo Noi abbiamo chiesto al comune di incontrarci per esempio per la questione della tarest la tassa dei rifiuti che diciamo è sproporzionata per quanto riguarda gli alberghi e non solo gli alberghi ma anche altre categorie quindi questa assenza del comune noi abbiamo sollecitato ad altre riunioni questa assenza del comune denota noi abbiamo pagato anche la seconda rata tra poco pagheremo la terza rata le parole non seguono i fatti questo non soltanto su questo argomento della tares ma per esempio anche sull'argomento della tassa di soggiorno quando è stata istruita la tassa di soggiorno il comune si è impegnato c'è un protocollo di intesa scritto si è impegnato con la federalberghi di rendicontare le spese sostenute con questa tassa e che il 30% sarebbe stato spese esclusivamente sull'argomento turismo noi abbiamo chiesto più volte la rendicontazione di queste spese non c'è stata fornita quindi il comune è assente ma c'è di più ci sono altri argomenti questa amministrazione ha iniziato il proprio lavoro proclamando una importanza particolare per quanto riguarda la legalità ma dove sta questa legalità noi abbiamo segnalato più volte che ci sono decine e decine di bed and breakfast ci sono affittacamere abusivi a Napoli questo intervento che noi abbiamo chiesto su questi abusivi non è mai stato fatto i vigili urbani non vanno a controllare queste strutture parlare della situazione occupazionale non lasciando indietro nessuno discutendo dei problemi a partire dalle assemblee svolte proprio sui luoghi di lavoro includendo tutte le diverse realtà precarie e sommerse per poi portare quelle testimonianze via via fino ai congressi nazionali e accendere i riflettori sui bisogni di questi lavoratori comunicazione e inclusione appunto il titolo del congresso organizzato dalla SLC CGL a Posillipo un incontro come spiega il segretario nazionale Massimo Cestaro in cui si è discusso della necessità di dare risposte anche a quell'ampia porzione di professionalità impelagate nel precariato il nostro obiettivo è quello di allargare i confini dell'azione sindacale perché questi giovani hanno bisogno di avere da noi delle risposte la saltuarietà o l'intermittenza non può essere sinonimo di precarietà di esclusione da un sistema di welfare e quindi se lo Stato se il sistema delle imprese riconosce che c'è una parte del lavoro appunto saltuario intermittente dal punto di vista delle retribuzioni ma ancor di più dal punto di vista delle protezioni sociali questi lavoratori devono avere delle risposte le stesse risposte che chiedono i lavoratori delle aree di crisi più note dalla questione San Carlo con l'intervento del commissario straordinario del Massimo Partenopeo Michele Lignola a quella dell'ippodromo di Agnano alla cui sorte è legato il futuro di centinaia di famiglie fino alle esperienze dei dipendenti dei call center realtà diverse ma come spiega il segretario generale SLC-CGL Campania Gianluca Daniele tutte legate da un unico filo conduttore il lavoro la mozione ha come titolo il lavoro decide il futuro il lavoro è il tema prioritario del congresso cioè noi abbiamo dei grandi asset strategici dell'area metropolitana e della regione Campania su cui agire che potrebbero creare occupazioni e occupazioni di qualità pensiamo al Teatro San Carlo che è uno dei temi del dibattito al forum generale delle culture noi pensiamo che cultura e turismo possono essere asset strategici per lo sviluppo dell'area metropolitana di Napoli e a livello regionale e di fatti più volte l'abbiamo chiesto anche al presidente Caldoro di investire soprattutto sull'ICT e sulle reti che insieme a un migliore utilizzo dei fondi sociali europei potrebbero divenire asset strategici per la regione Campania e creare un'occupazione anche di qualità per i tantissimi giovani scolarizzati della nostra regione L'universo femminile e le difficoltà delle donne nella sfera domestica e lavorativa analizzato attraverso un punto di vista differente che per una volta non pone al centro del dibattito discriminazioni e violenze ma la capacità della donna che sia un'imprenditrice o una casalinga di riuscire ad ottenere risultati concreti superando le difficoltà attraverso anni di lotte per far valere i propri diritti come spiega il presidente della commissione regionale pari opportunità Francesca Beneduce non possiamo parlare non possiamo parlare sempre di violenza dobbiamo partire da quello che sono le nostre origini delle lotte per arrivare ai diritti che oggi usufruiamo perché sembra scontato ma così non è dobbiamo guardarci anche un attimo indietro capire da dove siamo partite per vedere anche in una prospettiva diversa il nostro passato per costruire un futuro sicuramente migliore una visione diversa comunque del vedere la donna che non deve partire dalla commiserazione ma da un punto di vista anche della difficoltà che è diversa dalla commiserazione dal piangersi addosso attraverso un percorso di vita che sia seppur difficoltoso ma è pur sempre un percorso di vita che la inserisce in un contesto sociale molto difficile che è come quello anche lavorativo professionale un momento di riflessione quello organizzato dalla regione Campania che ha chiamato a raccolta diverse esperienze professionali proprio per sottolineare l'importanza di una corretta rappresentazione di genere nella società di oggi al fine di favorire il ruolo della donna nel mondo economico politico e sociale le parole della vicepresidente dell'ordine degli psicologi della campagna Lucia Sarmo confronto incontro incontro tra donne sulle donne ma non solo sulle donne sulle donne sulle relazioni sui contesti e in questo caso vogliamo incontrarsi sui contesti che portano al benessere diciamo non partire solo dalle esperienze negative non celebrare in qualche modo le vittorie ma rendere ordinarie quelle che sono state le conquiste che ci portano andare avanti discutere proprio nella prospettiva della costruzione di un benessere che riguardi tutto non le donne un po' come noi affermiamo nel nostro progetto opportune differenze cioè valorizzare le differenze differenze di genere differenze di generazioni differenze di idee per poter lavorare verso un contesto collettivo gruppare sociale che ci dia delle risposte che oggi difficilmente troviamo viste le difficoltà nelle quali ci imbattiamo costantemente no alla festa consumistica alle mimose alle serate in pizzeria o peggio ancora agli spogliarelli per sole donne o almeno così sembra sentire gran parte delle napoletane l'otto marzo sembra avere un senso all'ombra del Vesuvio solo se non si dimentica il significato e l'origine della festa della donna il ricordo delle operaie di New York morte in un incendio ma anche le lotte per la conquista di diritti sindacali e politici per me non ha nessun senso perché ricorre una tragedia cioè tante donne che sono morte in una fabbrica quindi non lo dimentichiamo vanno bene per quanto riguarda partecipare a seminari combattere per i diritti delle donne organizzarsi per questo ma non è una festa folcloristica proprio inutile questa festa diciamo sarebbe bella ma fossero i tempi migliori ma oggi non è proprio il caso se ritorniamo indietro a quello che era la vera motivazione per cui si festeggiava l'otto marzo sì così come viene attualmente festeggiato devo dire è un po' triste per noi donne dipende che cosa si intende per festeggiare è normale che data la circostanza da cui deriva la festa della donna non posso dire che bisogna festeggiare perché festeggiare la morte delle operaie di una fabbrica non si festeggia napoli saluta commossa uno dei suoi figli che del ventre del capoluogo partenopeo aveva fatto la sua casa e che era conosciuto e amato da tutti o barona nel centro storico era ormai divenuto un'istituzione un personaggio surreale attorno al quale negli anni si erano andate abitando le più strane leggende molti lo descrivevano come un nobile decaduto improvvisamente impazzito oppure vagabondo perché segnato da una tragedia familiare in realtà o barone all'anagrafe Antonio Varvella abitava a pianura in via dell'avvenire era sposato e aveva una figlia poi la decisione di vivere da clochard è una nuova famiglia quella dei giovani delle piazze sin dal mattino lo si trovava a spasso ad inveire contro non si sa cosa o contro chi al pomeriggio poi con quella barba se ne stava seduto su qualche fioriera del centro a riflettere chissà su cosa poi si avvicinava ai gruppi di ragazzi che sostavano in piazza dopo lo studio gli offrivano una sigaretta volto una birra e spesso una chiacchiera lui li cambiava con un sorriso strano tutto suo per rendere l'idea di quanto la sua morte abbia colpito la città basti pensare che a portare l'estremo saluto avvenuto nella chiesa di Santa Chiara e poi con una cerimonia laica in quella sua piazza del Gesù c'era anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e chissà se lui o barona si aspettava un addio così caloroso il grande tennis torna a Napoli dopo il successo dello scorso anno la Coppa Davis si riaffaccia all'ombra del Vesuvio nello splendido scenario del lungomare l'Italia di Capitan Barazzutti e degli azzurri Fabio Fognini e Andreas Seppi incontrano nei quarti di finale della World Group la Gran Bretagna di Andy Murray campione di Wimbledon un'occasione per rilanciare l'immagine della città un'arena in terra rossa che promette emozioni ed il pubblico delle grandi occasioni 5.000 posti e richieste da tutto il mondo come spiega Luca Serra presidente tennis club Napoli Murray singolarmente fa paura e probabilmente i due singolari con Murray sono punti persi però Fognini sta in una forma strepitosa e la Coppa Davis ha una formula per la quale un solo giocatore non può vincere la Coppa Davis senza avere un compagno all'altezza e quindi la squadra italiana secondo me dovrebbe vincere 3 a 2 ma questo lo dico un po' da tifoso soddisfazione anche per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris con gli inglesi è un impegno ancora più complicato e affascinante poi il luogo sarà ancora più bello un impianto più di qualità con più spettatori arriviamo a 5.000 e ci dobbiamo far trovare pronti perché ormai Napoli ospita sempre di più eventi sportivi di alto livello Capitan Corrado Barazzutti evidenzia l'importanza della sfida con i britannici ed esalta lo scenario incantevole in cui si svolgerà l'evento Napoli ci ha parlato bene per cui l'ultima volta abbiamo battuto il Cile e siamo contentissimi naturalmente di ritornare qui è una location splendida un campo da tennis sul lungomare quindi direi che insomma una sede splendida per poter giocare un incontro importantissimo un incontro per poter giocare